Ciao ragazzi, eccoci qua per il consueto appuntamento sul Vangelo della Domenica. Domenica che conclude il tempo di Natale e ci apre al tempo ordinario con una ricorrenza, con una commemorazione a memoria, diciamo così, è ancora in maniera forte però non solo un ricordo ma proprio una ripresentazione dell'evento, come sempre nella liturgia, quindi rendere presente l'evento del battesimo di Gesù. Tutta la tradizione evangelica ci racconta il battesimo di Gesù per dire che è proprio un momento decisivo, importantissimo della sua vita, della sua scelta. È il momento che inaugura l'uscita pubblica di Gesù, è il momento che dice tanto della sua identità e delle sue scelte e dice tanto anche della nostra identità di battezzati e di discepoli di Cristo. Perché? Perché Gesù, mettendosi in fila coi peccatori al Giordano, mostra proprio la sua scelta, ha capito che, e Luca lo sottolinea, Luca sottolinea, Gesù ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, lo dice solo San Luca, un tema molto caro a lui, è proprio nella preghiera che Gesù capisce la sua missione, come data parte succede anche a noi, capisce la sua vocazione, quella di essere, cioè il servo sofferente che prende su di sé il peccato del popolo, il peccato dei fratelli, e il servo sofferente è profetizzato da Isaia, che qui viene richiamato, tu sei il figlio mio, l'amato, dalle parole proprio del padre che dal cielo gli rivela, gli conferma questa chiamata. Si scopre, o meglio, si conferma figlio, si conferma figlio amato, in cui Dio si compiace e sono proprio le parole, alcune delle parole che in Isaia 42 descrivono questo servo, questa figura misteriosa del servo sofferente. Ma ecco, dentro questa missione di mettersi insieme ai peccatori, solidale con i peccatori, si apre però la possibilità di un nuovo popolo che nasce, che entra nella terra promessa, perché il battesimo di Gesù si svolge proprio lì, nel punto in cui Giosuè aveva fatto entrare, passando il Giordano, venendo dalla parte est, quindi dall'esterno di Israele, aveva fatto entrare il popolo nella terra promessa. Giosuè, sapete che è lo stesso nome di Gesù, Gesù e Giosuè è lo stesso nome praticamente. Ecco, lui è il nuovo Giosuè, è colui che introduce il popolo nella vera terra promessa, la terra della vita. È lui che ci battezza in Spirito Santo e fuoco. Chiaro che c'è una distanza abissale tra il battesimo di Giovanni e il battesimo cristiano, ma in tanti battisteri vediamo rappresentato questa scena, pensate a Ravenna, chi c'è stato, no? Nelle cupole dei battisteri c'è sempre il battesimo di Gesù. Perché? Perché, non perché è lo stesso battesimo, ma perché noi siamo battezzati in Lui. Pensate che questi mosaici stavano proprio esattamente sopra alla vasca battesimale, quindi si riflettevano nell'acqua. Il battezzando adulto che entrava in quella vasca vedeva, riflessa, l'immagine del battesimo di Gesù. Noi in Lui siamo battezzati, nel Figlio, diventiamo figli nel Figlio. Riceviamo lo Spirito Santo, quello Spirito che scende su di Lui in forma di colomba, come la colomba del diluvio che annunciava la pace. È arrivato l'epoca, si apre con Gesù l'epoca della misericordia. È finito il castigo, come nel diluvio. Arriva il tempo della pace. Anche su di noi, come su Gesù, il giorno del battesimo Dio ha detto tu sei il mio figlio amato, sei un figlio amato. In te ho posto il mio compiacimento, che è una formula un po' che noi non useremmo, ma per dire sei la mia gioia. Quante volte le mamme, i babbi, magari più le mamme, dicono ai bambini piccoli, sei la gioia della mamma. Ecco, Dio dice tu sei la mia gioia. È bellissimo questo. Lo dice Gesù, su Gesù, ma lo dice anche su di noi. Ecco, celebrare il battesimo di Gesù e celebrare anche la grande grazia del nostro battesimo, del nostro scoprirci figli e riscoprirci sempre figli amati, nonostante tutto, dentro le difficoltà, dentro le fatiche, ma abbiamo accanto a noi colui che si è messo in fila con i peccatori, colui che ha preso su di sé il peccato del mondo. Buona domenica del battesimo del Signore. Ciao ragazzi!